Il gruppo Martelli, azienda specializzata da quattro generazioni nella lavorazione di carne suina di alta qualità con sede principale ad Oso nel comprensorio Leopò, ha conseguito un importante riconoscimento. La speciale linea Qui Ti Voglio, che comprende un'intera gamma di prodotti realizzati con carne suina senza antibiotici, è stata certificata da SGS Italia come da suini allevati senza utilizzo di antibiotici dalla nascita. Si tratta di un fondamentale traguardo, commentano Marco e Nicola Martelli, che come azienda abbiamo fortemente voluto perseguire. Un ente certificatore accreditato infatti ha sostanzialmente verificato e attestato le buone pratiche che mettiamo in campo da diverso tempo e che rappresentano un plus di notevole valore sotto diversi aspetti. Una carne senza antibiotici tutela infatti in primo luogo il benessere del consumatore e al contempo contribuisce all'equilibrio biologico che è centrale in tutti i nostri programmi di allevamento. Secondo un rapporto EMA, in Italia circa il 70% degli antibiotici venduti, compresi quelli destinati al consumo umano, viene acquistato per gli animali. L'Italia peraltro risulta essere al terzo posto in Europa per l'utilizzo di antibiotici negli animali d'allevamento. La scelta di gruppo Martelli si pone in decisa controtendenza rispetto a questo trend all'insegna della massima tutela del consumatore. Tutti i capi della linea a cui ti voglio sono allevati senza l'apporto di antibiotici fin dalla nascita per garantire il massimo della sicurezza alimentare. Ciò è possibile attraverso l'allevamento dei suini in corretti spazi per ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita, un'appropriata gestione degli ambienti attraverso il reciclo continuo dell'aria e un avanzato sistema di pulizie delle porcilaie, oltre ad una sala alimentazione integrata e controllata. Come per gli altri prodotti del gruppo Martelli, anche la linea a cui ti voglio è distribuita in Italia e all'estero, in particolare negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, Australia e Giappone.